In Campania, in modo più o meno omogeneo in tutte le province, emerge come i licei continuano ad essere più gettonati, assorbendo il 61,3% delle iscrizioni, seguiti dagli istituti tecnici con il 25% ed i professionali con il 13,8%. Con il liceo scientifico tradizionale al primo posto nelle preferenze con il 17,3%, secondo è il tecnologico 16,8% e in terza posizione si piazza il professionale 13,8%. Tra i licei, inoltre, un certo successo riscuote pure il liceo scientifico opzione scienze applicate, 10,6%, mentre il classico resiste con il 7,8%. Questi primi dati che emergono dalle iscrizioni online per l'anno scolastico 2022-2023, iscrizioni che riguardano le classi prime di primaria, secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale. In tutti questi casi la procedura si è svolta online. Ma al di là di queste percentuali, quasi tutti gli istituti hanno dovuto fare i conti con il calo delle iscrizioni a effetto diretto della denatalità, un fenomeno che da anni interessa purtroppo il Paese. Sicuramente c'è una questione di denatalità che parte dalle scuole primarie e poi a cascata arriva sulle secondarie di secondo grado. Noi, devo dire, quest'anno siamo andati molto bene, appunto abbiamo avuto 240 iscritti, facciamo una classe in più sull'indirizzo di scienze umane e l'unico indirizzo che ha sofferto quest'anno è il coreutico, ma ovviamente per la danza c'è un discorso a parte, che non è quello della denatalità, ma il fatto che per due anni le scuole di danza sono state quasi completamente chiuse e poiché non c'è una scuola media di indirizzo coreutico, quello che era il bacino da cui nascevano le iscrizioni al coreutico è in sofferenza e inevitabilmente lo è anche il liceo coreutico. Oltre alla denatalità nella città di Salerno, ma in tutto il sud in generale, si deve fare i conti anche con l'emigrazione giovanile. Allora bisogna invertire completamente le politiche giovanili e fare in modo che ci sia un lavoro dignitoso e adeguato per le persone, che le persone non debbano scappare dalla nostra città, perché è chiaro che se i nostri giovani vanno a vivere in altri contesti non solo prossimi diciamo alla città di Salerno, ma lontani, i loro figli non saranno alunni delle nostre scuole. E noi abbiamo in tre anni perso più di 2.500 giovani tra i 18 e i 35 anni. Ovviamente queste saranno famiglie che si insediano altrove e i cui figli andranno in altre scuole del nostro paese, ma sicuramente non nella nostra città. Grazie a tutti.